La scorsa settimana ho chiuso in profitto l'operazione long su euro e il conto di professione trader si porta al momento a un meno 0,17%. Ben ritrovato con questo appuntamento, io sono sempre da meno zitto, trader indipendente, membro e collaboratore di IR Forex. Questa è la rubrica settimanale professione trader dove andiamo via via ad aggiornare quello che è il diario di bordo, il diario di trading di questo conto, dove opero appunto con la price action che ho imparato appunto qui da IR Forex. Allora, conto di trading che al momento si trova diciamo con un meno 17 euro, questo è diciamo lo stato di avanzamento del mese di novembre, mi trovo davanti al mio foglio diciamo di gestione del conto, ho al momento fatto solo due trade, siamo il 21 di novembre, due trade tutte e due sull'euro dollaro, possiamo andare a vedere infatti il diario. Diario che appunto mostra la seconda operazione sull'euro che avevo fatto il nove novembre scorso sulle FTV Daily, avevo fatto diciamo un primo ingresso rischiando 85 euro a 1,0720 e se andiamo a vedere poi ho chiuso l'operazione il 14 dopo l'esplosione di volatilità. Ho chiuso con un profit di 71 euro che levate gli interessi fanno circa 69 euro. E qui possiamo vedere, ho scritto chiusura manuale dopo aumento di volatilità prima del target. Target che possiamo andare a rivederlo era appunto settato a 1,08 e 50. Andiamo a vedere sul grafico, andiamo a vedere sul grafico cosa è successo e valutiamo un po' quello che è il processo decisionale che mi ha portato anche alla scelta di chiudere. Allora innanzitutto siamo sul grafico dell'euro dollaro, questo è il giornaliero, siamo sulla piattaforma di ProRealTime e come possiamo vedere ci sono ancora i livelli insomma di ingresso, di uscita del mio progetto di trade. Progetto di trade che dopo il piano della chiusura settimanale prevedeva appunto un long. Io ero entrato su questo setup, un setup che è appunto una FTV che è avvenuta dopo l'esplosione di volatilità, dopo il doppio minimo year close settimanale e quindi dopo un po' di ritracciamento va, andava a ritestare questa zona, zona di 1,06 e 70. Io ero entrato alla rottura di questo setup a 1,07 e 20 e mi sono ritrovato subito in una posizione contro ma eravamo appunto sul livello che poteva effettivamente fare da base o poteva essere diciamo un po' bucato e poi ripreso tant'è che lo stop era un bel po' più in basso e avevo fatto un ingresso che prevedeva un eventuale ulteriore incremento che in realtà non ho fatto perché il prezzo poi è esploso direttamente al rialzo. Dopo effettivamente diciamo aver visto questa close che non è andata neanche a rompere il minimo, il giorno successivo in realtà rompe, recupera, quindi con bassa vola poi, vediamo ancora qui, bassa vola il prezzo poi nella giornata di martedì, quindi il 14 novembre scorso, esplode al rialzo. Esplode al rialzo e fa una chiusura decisamente bullish con una vola di, vediamo un po', stiamo parlando di 196, 194.6 pips, sicuramente una vola straordinaria per quello che è l'euro-dollaro, quindi sicuramente un movimento da incassare o comunque un movimento che non va in qualche modo lasciato senza essere gestito, nel senso che io in questo caso ho deciso di chiudere poco prima, cioè prima della chiusura, il prezzo poteva andare anche, diciamo poteva ritracciare eccetera, però insomma andava sicuramente gestito, per esempio spostandosi con dei trailing stop, però io comunque ho fatto un ingresso su questa FTV, la mia idea di incremento c'era sicuramente, ma su una dinamica che in questo caso non c'è stata, l'esplosione di volatilità mi porta sempre, diciamo, a chiudere proprio perché voglio incassare quel movimento di alta vola. Anche perché dopo una, diciamo, un'esplosione di vola è vero, sì, ci può essere, quello che c'è stato adesso, un rialzo, ma ci può anche essere una fase di ribasso, un po' come è avvenuto qui, il prezzo rompe il rialzo e poi boom, 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 fa questo, poi in realtà impiega un altro po' e poi è partito il rialzo, quindi ci ha impiegato 3, 4, 5, 6 giorni prima di fare una ripartenza vera e propria. Dove siamo adesso? Siamo, se andiamo a vedere un po' il prezzo, sta quotando più o meno 1,0950, è la zona, diciamo, il T5, il 261,8 di questa dinamica di minimi crescenti che ho analizzato la scorsa volta. Però prima di andare a vedere questo cerchiamo di vedere qual è la, anche la dinamica di breve, no? Quindi come mi sono comportato? Io mi sono comportato andando a, levo questo livello, andando a incassare dopo l'apertura della sessione americana, dopo aver visto questo, questo rialzo, quindi poco prima delle 16, dopo l'apertura dell'America, quindi qui avevamo già una candela che aveva fatto veramente tanti, tanti punti, 1,0830 e qui eravamo 1,0720, insomma, siamo, insomma, siamo veramente alti, quindi 1,0830, meno 1,0720, sono 110 pips di euro-dollaro, non è tanto. Poi lui in realtà come prezzo ha fatto appunto esatto 130, ci sta, mentre infatti il, come dire, il mercato, per quanto mi riguarda, poteva, diciamo, poteva arrestarsi e andare giù, comunque in realtà è andato anche un po' più su durante la sessione americana. Però 100, oltre 100 pips in così poco tempo sull'euro-dollaro, secondo me sono da incassare, soprattutto su un movimento così, diciamo, su una candela che è avvenuta probabilmente appunto dopo le 13, ancora prima della sessione americana, poteva ancora fare qualcosa del genere e poi ripartire, quindi poteva, incassando, quindi potevo valutare un ingresso nelle giornate successive. Ora, quello che sta facendo il mercato per quanto mi riguarda è, mi sta dando solo più tempo per ragionare su un eventuale nuovo long. Questa è la dinamica a 4 ore, ma se andiamo a vedere anche il 6 ore, possiamo notare come effettivamente i corpi, ma l'abbiamo visto anche sul daily, i corpi di questo allungo sono comunque via via sempre più compressi, più piccoli, quindi l'idea che da qui ci possa essere un nuovo ritracciamento e quindi un nuovo swing ci sta. Tra l'altro voglio vedere un po' anche questo swing che si nota sul 6 ore. Eccolo qui. Ecco, questo è l'ultimo swing visibile sul 6 ore, uno swing che si è creato praticamente con la candela delle 7, quindi chiusura delle 13 di venerdì, venerdì scorso. Chiusura, pardon, candela che adesso è andata dritta al T5 senza mai ritracciare, quindi conoscendo un po' quelle che sono le dinamiche, soprattutto di euro, insomma comunque dei mercati del forex, in questi mercati molto liquidi, che rispettano i livelli delle dinamiche di volatilità, è abbastanza plausibile che possa avvenire un ribasso. Non è detto che ovviamente si vada sotto questo livello, magari un ribasso anche in zona, come dire, in zona pullback, anche comunque in zona 1.085, può secondo me essere, diciamo, tenuto in considerazione, può avvenire, e quindi valutare e valutare, insomma, nelle prossime ore dovesse esserci anche un aumento di volatilità e poi un recupero long, un nuovo ingresso. L'idea comunque è che, appunto, essendo su questo livello che, tra l'altro, allora per quanto mi riguarda, allora sicuramente è il T5 di questa dinamica daily, però vado un attimo sul settimanale, il ragionamento, quando comunque poi ci troviamo davanti al grafico, è che qui eravamo proprio vicini, anzi siamo proprio poco sopra questo swing, che è uno swing guy che ha riportato i prezzi giù nel periodo estivo, e quindi diciamo un massimo sicuramente importante. Infatti qui c'era stato proprio, e questa è stata proprio l'area di swing, swing low, swing guy, che è avvenuto proprio in due candele, quindi è meno evidente, però questo è uno swing, un po' come era avvenuto anche qui in realtà, quindi se andiamo a vedere, a vedere la dinamica di prezzo, sempre l'area attuale è l'area proprio di interesse, nel senso che il prezzo proprio su 1.09.10 aveva swingato il 31 luglio, poi ha rifatto, diciamo dopo questo allungo, uno swing high, quindi viene giù, swing low il 21 di agosto, torna nell'area di ex swing low e rifà uno swing high. Ora ci arriva con una vola importante la scorsa settimana, al momento sta un pochino su, però insomma mettersi long da questi livelli, attendo un attimino prima di farlo, mi piacerebbe vedere appunto un ritracciamento, una dinamica seria. Quindi insomma ecco, il mercato in questo momento ci sta dicendo che è forte, e ci fa ragionare, ci sta facendo ragionare. Sono ritornando sul daily, questa appunto è la dinamica, possiamo vedere come si sta muovendo il prezzo, nel giornaliero, possiamo vedere come dopo, dopo questi minimi crescenti, il prezzo effettivamente si sta muovendo, rispettando appunto anche i livelli. Quindi qui abbiamo questo minimo massimo, che è la dinamica 0-100, il prezzo che fa va in alto, recupera e torna in area pullback, torna su, rompe al rialzo, fa una falsa rottura, torna in area pullback, fa ancora un, come dire, un tentativo, un tentativo al rialzo, quindi un doppio massimo tecnico, che porta giù di nuovo in area pullback, io qui avevo fatto il trade short, e in realtà lui crea questa dinamica, questa pin bar fondamentalmente, che sembrava poter almeno riportare verso queste aree, invece sfonda il rialzo e quindi arriva, arriva in volatilità, nella settimana successiva va a, come dire, fare il tocco quasi del 161.8. ritraccia, qui non è segnato, ma c'è il T2, il 130-90, della dinamica, e successivamente il prezzo, effettivamente si sta muovendo, arriva sul T4, congestiona, e bomba al 261.8, quindi molto interessante, sicuramente questo, quest'ultimo movimento, quindi proviamo a rivederlo meglio, mi piace molto come si sta strutturando, perché, insomma, questo tipo di dinamica è molto interessante, perché dopo appunto questa fase, dopo questa fase un po' più laterale, lui è partito con questo rialzo, che ha fatto, diciamo, con uno, due, adesso con un, diciamo, un'ondina un pochettino più, più lieve, e se questo, diciamo, rispetta quelle che sono le dinamiche nei mercati, le ciclicità, come dire, le dinamiche di volatilità dei mercati, ci sta, ci sta secondo me, che da qui possa verificarsi appunto, un, una flessione, verso, anche verso questi livelli, come dicevamo prima, l'1.08.50, e poi un ulteriore, un ulteriore rialzo, chiaramente non possiamo sapere quanto, e se questa cosa avverrà, quindi quanto profonda, no, una dinamica del genere può, può avvenire, però, insomma, l'idea, conoscendo, conoscendo questo mercato, ce la possiamo fare con, con i livelli. Allora, quindi abbiamo visto, le gambe più, più importanti sono, sicuramente, questa, poi c'è stato questo, poi c'è stata questa, ha fatto questo, ha fatto questo, ok, supponendo, possiamo supporre che lui qui, possa fare anche un massimo, quindi, una cosa del genere, potremmo valutare, eccolo qui, o anche quest'ultima gamba, ok, vediamo come effettivamente la zona, sì, mi piace di più questa gamba, levo questa, levo adesso il mio, progetto precedente, e quindi tutto quello che può sporcare, questa nuova analisi, ok, allora, probabilmente questo è anche il, no, non lo è, o forse sì, 6 novembre, quindi stavo cercando di capire, se prendere o questo, questo minimo, oppure l'ultimo, l'ultima gamba long, quindi data, diciamo, data la volatilità, da, sì, da qui, siamo 10 novembre, va bene, ci sta, ok, dovesse qui fare, diciamo, uno swing high, al momento non è tracciato, si vede chiaramente come, la zona di 1,085, sarebbe proprio il, come dire, il 38,2 di ritracciamento, del, di questo, di questo movimento, questo movimento, quindi, che io adesso ho spezzato in due, quindi, pam, 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 bello, perché l'ultimo, insomma, è veramente piccolino, e, quindi, insomma, questa, questa confluenza, continua a, continua a piacermi, continua a piacermi l'area 1,085, per, per un long, quindi, dovesse fare, qualcosa del genere, poi, un giorno così, un giorno così, o, al giro di due, tre giorni, secondo me, è abbastanza fattibile, un, un long, tra l'altro, vado a vedere un po' anche la sterlina, l'idea, è, analoga anche su, sulla sterlina, la sterlina che ha un settimanale, con, diciamo, un T5, chiaramente, in questo caso, ancora non è stato preso, è confluente con questo 1,2650, circa, 1,2640, è la zona che, dovesse entrare sull'euro, o sulla sterlina, andrei, sicuramente, a valutare, appunto, le confluenze, e livelli di prezzo, in questo caso, la sterlina, quindi, l'1,2650, un livello interessante, sull'euro, l'altro, l'altro livello, probabilmente, per quanto mi riguarda, è l'1,10, l'1,1050, quindi l'altro, l'area dell'ultimo swing high, quindi questa zona qui, potrebbe, diciamo, essere l'area di, di presa profitto, dovesse entrare long, e se si dovesse verificare questa, questa dinamica, e in alternativa, cioè in alternativa, in realtà, sto anche valutando, un ingresso su, su oro, oro che, in questo momento è, questo è il settimanale, ha già convalidato, questo, questo setup, weekly, ben impostato, per, per un long, sta quotando, sopra il 1980, potrebbe essere questo, il nuovo, nuovo trade, quindi, non, l'euro, la sterlina, ma potrebbe entrare, oggi o domani, su, sull'oro, sto, sto facendo, diciamo, i miei ragionamenti, l'idea è che, potrei lavorare, questo, questo setup settimanale, e quindi lavorare, su, sul weekly, andando con, diciamo, un rischio, magari, inferiore, e poi provare, a fare degli incrementi, se il mercato, non parte subito, al rialzo, allora, questo è il daily, il daily, sta mostrando, cosa ci sta mostrando, ci sta mostrando, dopo questo forte rialzo, lui, sta dicendo, sta dicendo, che, riesce a tenere bene, il 1960, l'abbiamo visto, sul settimanale, il settimanale, prova ad andare giù, poi lo recupera, quindi, quello che vediamo nel daily, come un recupero, dell'area, nel 1960, diventa qui, poi, anche, un trigger operativo, convalidato al rialzo, quindi, 1994, qui siamo a 1993, 60, qui, 1994, 40, nella giornata di ieri, questa è la domenica, comunque, nella giornata di ieri, si è creato, questo, questa tail bar, che in realtà è anche un FTV, classic, l'ha convalidata già stamattina, e ha testato già, questo massimo, convalidando la, il setup weekly, ma, allora, l'idea che io possa entrare, già oggi, già oggi, provo adesso a fare, un minimo di ragionamento, poi valuterò, successivamente, allora, questa, per esempio, è l'ultimo setup, daily, che, vedo al momento, ho sbagliato, volevo fare questo, allora, ok, quindi, replicare, la vola di questo setup, mi porterebbe, qui, qui, direi che, probabilmente, mi piace, mi piacerebbe, mettermi, 150, diciamo, 1920, potrebbe piacermi come, come area, diciamo, mi serve il 150, più o meno, l'idea, l'idea, l'idea è potermi posizionare, con uno stop iniziale, magari, proprio a 1925, con un rischio inferiore, iniziale, e, lavorare, appunto, sul, sul, sul fatto che, la dinamica daily e weekly, sono ben sintonizzate, e che qui abbiamo, un trigger, weekly, che, porta, diciamo, a una confluenza, 2032, questo, questo T3, ma, se guardiamo un pochettino più, la, la figura, diciamo, in grande, in realtà, potrebbe anche fare, come dire, un'ulteriore sparata, verso, 2050, 2080, insomma, sono, livelli che, il mercato ha già, come dire, battuto, quindi, testato, e potrebbe andare a, a rifare, quindi, questa è la, la mia, FTV settimanale, molto interessante, quindi, o posizionarmi, diciamo, con uno stop a 1925, potrebbe avere senso, perché, che dovesse fallire, effettivamente, questo setup, secondo me, non avrebbe più senso, al momento, rimanere a mercato, rimarrei, rimarrei per troppo tempo, a mercato, quindi, uno stop dietro al settimanale, che non sia, diciamo, neanche esagerato, in termini, di, di percentuale, quindi monetari, ci sta, 1925, 1920, e, quindi, provare un primo ingresso, e, nelle, nelle ore successive, quindi, un sei ore, un quattro ore, mettermi, come dire, a gestire il rischio, con, con poi, diciamo, una gestione, più o meno in trailing, con, con il mantenimento del, del rischio iniziale. Quanto rischio, qui potrei, potrei fare, diciamo, potrei fare, diciamo, il mio ingresso, con un rischio, sempre, circa 0,8, 0,85, o di meno, però, siamo con un weekly day, davvero ben, ben impostato, un mensile, che è questo, anch'esso è FTV, però, è un mensile, quindi, lascia un po' il tempo che trova, mensile, che però, qui manca il 130, 90, lo mettiamo subito, sembra, esatto, proprio su, sui 2070, a un, a un livello, è interessante anche questo, quindi, potrebbe, potrei, diciamo, fare, vista questa, questa analisi, multi time frame, l'idea è che, potremmo arrivare, più o meno, sui 2070, quindi, la gestione, la gestione di questo trade, potrebbe essere, una gestione con incrementi, valutando un primo ingresso, già, già oggi, uno stop, dietro il settimanale, a 1920, e provare poi, a incrementare, via via, che, il mercato, se lo fa, swinga, che, insomma, chiaramente potrebbe venire giù, il fatto che, al momento, USDN sta messo un po' così, cioè, abbiamo un dollaro, dollaro yen, che sta ritracciando, dollaro yen, che sta ritracciando, non è, quindi, uno yen forte, solitamente, non è l'indicazione, di un buon momento, long, per loro, però, in realtà, nell'ultimo periodo, si è anche decorrelato, quindi, diciamo, questa è un'informazione, che, tengo, tengo un po' in considerazione, per, per il mio progetto, e, prima di farlo, insomma, però, andrò a, andrò a valutarlo, quindi, al momento, diciamo, sono queste, sono queste, le, le mie, le mie considerazioni, il, il diario di trading, al momento, mostra, appunto, due trade, per, per questo mese, tutte e due, sull'euro dollaro, il prossimo trade, direi, potrebbe essere, proprio l'oro, visto, che su euro, ma, in realtà, anche sugli indici, sto attendendo, un ritracciamento, un ritracciamento più o meno profondo, che possa, poi, farmi, entrare al mercato, quindi, potrei già valutare, nelle prossime ore, appunto, l'ingresso, sul mercato dell'oro, e, magari, nella prossima settimana, potremmo, vedere, il trading corso, e, commentarlo, insieme, quindi, io, ti ringrazio, per aver visto, il video, fino a questo punto, ti ricordo sempre, di iscriverti al canale, lasciare un mi piace, o lasciare un commento, a questo video, sotto questo, sotto questo video, e farmi, sapere, se questi contenuti, ti stanno piacendo, come possiamo migliorarli, ti saluto, alla prossima, e buon trading.